buongiorno a tutti ragazzi oggi mercoledì 4 settembre 2024 sono quasi arrivato alla fine della mia mattinata se volete vedere come è andata restate sul video questo è uno dei tanti belli belli stamattina tutti freschi qua c'è anche il fratellino piccolino che adesso copriamo e lasciamo ecco un altro copriamo anche questo perché è ancora piccolino va bene io vado avanti mi raccomando restate sul video che vi faccio vedere come andata la mattinata se il video vi piace mettete un bel like iscrivetevi al canale a dopo buon video buona visione e rieccoci qua questo lo stavo lasciando qua mi stava sfuggendo bella bombetta rieccoci qua eccolo qua aggrappato alla parete mamma mia è incavato eccolo va bene andiamo avanti a dopo eccoli dai altri due pagnottini ci sono uno qua e uno qua va bene andiamo avanti ciao a tutti mamma mia questo ragazzi non so se lo vedete ho fatto così col piede mi sono accorto all'ultimo ho ritratto il piede per per un pelo è bellino anche lui un po mangiato ma bellino va bene andiamo avanti speriamo di non calpestarne a dopo ed eccoci qua che un altro l'abbiamo trovato tutti gli occhetti ma bellini vediamo di non romperlo ecco ecco va bene avanti ciao a tutti a dopo coppietta va bene dai piano piano qualcosina salta fuori a dopo ed ecco appena sopra la coppietta un bel gnocchetto insieme questo piccolino questo piccolino e una coppietta piccolina va bene questi li lasciamo ecco un altro qua questi li copriamo li lasciamo e prendiamo la bombetta eccolo bello 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 va bene a dopo ed eccolo qua un altro vediamo come è bello 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 fresco dai andiamo avanti ciao a dopo e rieccoci questo fungo è strano è un porcino è un porcino a cui hanno mangiato la cappella va bene vediamo se riesco a salvarlo bellino dai e hanno dato una spuntatina al cappello però è bellino va bene è dura ma si va avanti a dopo e rieccoci qua dopo un po non si vedeva più niente eccolo qua un bel gnocchetto va bene avanti ed ecco qua un'altra bombettina da lasciare non ve li sto facendo vedere ma ne sto lasciando tanti davvero tanti tanti piccoletti bene bene è un buon segno va bene speriamo di trovarne ancora misura a dopo e rieccoci qua che ancora uno l'abbiamo trovato sarà uno degli ultimi penso però dai bello 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 già aggredito dalle lumache però è bello va bene speriamo di risentirci a dopo bene è un buon segno bene è un buon segno